del mare, quanto è importante per fare un relazzo in questo tempo? Per noi è un evento di straordinaria importanza, la nostra priorità è la blue economy, l'economia del mare, il sviluppo, la crescita, il lavoro, l'occupazione, è un evento importante, sarà una grande vetrina, io voglio ringraziare il Comune di Forni, il Sindaco, la Camera di Commercio, tutti i quelli che hanno contribuito e collaborato a realizzare questo evento, la Regione Lazio, insomma ci siamo tutti, abbiamo fatto squadra e sarà una grande occasione, una grande opportunità anche di internazionalizzazione per le piccole e medie imprese. Questo è un evento importante perché avrà uno sviluppo ancora migliore negli anni futuri che avrà uno sviluppo ancora migliore negli anni futuri, ma sì assolutamente perché il mare è bello, il mare è una grande risorsa, una grande opportunità, il mare è una ricchezza, quindi questo è il nostro obiettivo, è un grande patrimonio, è una grande risorsa che andiamo a scoprire, vogliamo far conoscere, vogliamo soprattutto lavorizzare, per noi è una grande opportunità, quindi sarà davvero una prima opportunità.